Ehi ragazzi come va? Io sono Feriniti E io sono Steph e questo gioco è una youtuber Sly E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono Darkwolf, Yesimina, Rick07, Ridra, Dalila e Lele Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione e vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi E siamo giunti all'episodio finale di Youtubers Live Quindi per questo video sai cosa andremo a fare? Saranno gli obiettivi più importanti di tutti perché ci riprenderemo a mano una volta per tutte Ok E fuggiremo nello spazio per stare lontani da testa per sempre Oh mi piace tantissimo e ovviamente diventeremo i numeri uno di Youtube Beh certo altrimenti nello spazio non ci puoi andare se non sei il numero uno Esatto dobbiamo assolutamente riuscirci Allora siamo messi bene ragazzi ci abbiamo messo una cosa come 6 ore ad arrivare a questo punto Perché era diventato totalmente monotono tutto uguale ma va bene così A noi va benissimo così guarda siamo terzi Cioè questa è Maria prima di noi Maria è la prima chi è? È sempre lei È sempre lei È forte Sì è forte Noi cresciamo e lei cresce ancora di più È proprio Certo sì non la puoi fermare non la puoi fermare ma ci riusciremo Ok come prima cosa ci riprendiamo a Armani Sai perché? Assolutamente perché? Perché dobbiamo diventare i numeri uno su Youtube quando Armani è di nuovo nostro collaboratore Secondo me è importante voglio Vuoi condividere con lui questo Youtube Brava 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 Non se lo meriterebbe ma voglio proprio donare questo Sì ci ha rifiutato un sacco di volte Troppe volte Guarda siamo tristissimi Se questa è l'ultima volta che ci rifiuta guarda io considererò l'idea di prendere qualcun altro Esattamente Perché non va bene ci ha ferito troppe volte Adesso andremo al cinema con Armani E ovviamente E cosa c'è di meglio di proporgli di tornare nel nostro Nella nostra casa nella nostra villa andando al cinema Ma dai siamo proprio gentili Esattamente hai notato quanti soldi siamo arrivati? È quasi ridicolo No non l'avevo visto Oh mio Dio Come facciamo ad avere tutti questi soldi? Non lo so Guarda sinceramente la casa nello spazio la prima volta che abbiamo visto la schermata mi preoccupava l'affitto Perché dicevo cavolo è davvero alto ma guarda come siamo messi di soldi Se continuiamo così ci potremmo comprare anche la luna infatti Anche tutto l'universo dici Sì 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 ci stiamo andando vicini e infatti andiamo a comprarci qualcosina da idea Dato che abbiamo sbloccato le ultime cose non c'è più altro è finito Abbiamo tutto quello che c'è possiamo comprare Quindi compriamo tutto Esatto esatto Quella è la mia idea Spero che ci sia qualche altro oggettino figo figo Perché le ultime volte ci ha deluso un po' All'improvviso stiamo andando ma soprattutto che cosa ha in testa Sterenichi in questo momento? Da dove l'ha tirato fuori? Hai letto che ci dobbiamo vestire formali? Proprio elegantissimi per invitare Armani al cinema e chiedergli di tornare ad essere il nostro collaboratore Allora non gli metto nessun cappello Cosa gli stai mettendo? Guarda che poi Armani ci rifiuta Ok Comportati bene Giacca blu Pantaloni voglio questi Guarda Guarda qua Guarda Si è rubata anche le cose dell'acqua Beve solo lei in casa È proprio una ladra Sì 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 un sacco di cose ormai se le ha arraffate e rimangono nella sua stanza Adesso concentrata Ora concentrata Sono emozionatissima Sono emozionatissima È arrivato finalmente il momento Guarda come si è vestito carino Guarda anche lui come si è vestito carino Sì sì è elegante anche lui Non abbiamo ancora il livello perché dobbiamo arrivare al massimo di questa barra Ok ok parliamoci e poi glielo chiediamo Quindi se non ci rifiuta Dai 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 Che poi hai notato che adesso è compreso il flerta anche quando sei con i ragazzi Anche con i maschi Anche con i maschi Probabilmente con la nuova giunta Quindi dopo avere anche queste scelte Flettiamo con Armani E ci sposiamo lui guarda Vero Così non ci abbandona più Eh assolutamente Ci siamo Vai Devi Sì Ok 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 Accettato Ho avuto paura per un attimo Quanto ci abbiamo messo Finalmente accettato Aspetta un attimo Che succede? Che succede? Vedi che c'ha un più Mi sa che Quando Tessa l'aveva rubato Lui aveva fatto un video E forse ce l'abbiamo ancora da pubblicare Quindi avremo un video inedito di Armani Che nessuno ha mai visto Tipo a cinque mesi prima Perché ormai è passato un sacco di tempo Eccola No No è asaria Ah l'hai sbagliata finalmente Di solito non sbagli mai Mi sono confusa Mi sono confusa Facciamo un po' di foto Non si è presentata Non si è presentata Ha fatto bene guarda Perché sarebbe finita ma le l'avremmo picchiata Le avrei dato un cazzotto questa volta Guarda che bello stai rinichi elegante comunque Oh eccolo Sono felicissima Ciao Armani Sei tornato Guarda che bella è la nostra casa Ed eccolo che balla subito Subito Da quanto è felice sei messo subito a ballare E beh dai chi è che non sarebbe felice con questa casa Adesso Armani ti portiamo pure nello spazio Meglio di così guarda No Prima di tutto c'è una cosa da fare La sua postazione Hai ragione Stavo dimenticando È vero che non abbiamo fatto la postazione Per Armani appunto Quindi gli compriamo tutte le cose bellissime Esatto Così non si azzarderà mai più ad abbandonarci E dopodiché pubblichiamo il suo video inedito Che ha almeno sei anni Sai che Farà schifo secondo me Però se lo rifiutiamo lui se ne va Perché ti ricordi che se all'inizio Non pubblichi il loro primo video Si offendono Ma è un bug incredibile È già Abbiamo il video È già È già Abbiamo il video bloccato da tantissimo Perderemo iscritti Ma dobbiamo fare questo e altro per Armani Mettilo a fare un video E facciamo finta di nulla Lo metti a fare un video nuovo E gli pubblichiamo quello Così è felice C'è un problema Che dobbiamo ritirare i suoi pezzi del computer Ma abbiamo comprato 2000 decorazioni Dobbiamo far vedere anche la casa Perché abbiamo comprato davvero tanto E secondo me nel pieno di sopra È tutto decorato in modo carinissimo Un tour Dici Della casa super decorata Della casa super arredata Certo E dopo due ore e mezzo Che abbiamo aperto scatole Finalmente ci siamo La postazione di Armani è pronta Guardatela qua Bellissima E ora si parte 3 milioni e 150 mila iscritti Dobbiamo arrivare a circa 3 milioni e 400 mila Armani fa parte di noi Quindi ce la possiamo fare Ho un sacco di cose A farti vedere fighissime Ok ok Non vedo l'ora Non vedo l'ora Allora prima di tutto si dorme Guarda la stanza come è arredata bene ormai Quante decorazioni Questa cosa tu non l'hai mai vista Ma è bellissima Facciamo così E guarda Oh mio dio Oh mio dio Possiamo fare l'unboxing Sì 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 E proprio adesso lui prende E va a registrare Come se fosse una cosa normale Però lo vedrai Tenere in mano il gioco E parlarne No aspetta Lo voglio vedere È fantastico È fantastico Faglielo fare subito Sì sì Guarda lo vedi che c'era in mano Sta andando al computer Perché adesso lo fa vedere Proprio bellissimo Che carino E ovviamente fai tantissime visualizzazioni Dopodiché Possiamo fare le prime impressioni Che è un'altra cosa Che appunto fai appena compri un gioco Facciamo tutto Facciamo tutto Sono curiosissima Lo voglio vedere Allora questo Ok Che gioco è comunque Sembra stranissimo Sembra Oddio Tipo uno sparatutto Non lo so Prima sembrava ambientato nello spazio Ora nel Texas Vedi che questi sono alieni Esatto E poi invece su un treno Adesso di nuovo sopra un treno Vedi E vabbè magari Sono diversi personaggi Magari sta sognando Capito Ambientato in posti diversi Mi piace Un gioco innovativo Secondo me 50 nemici contro di te Che bello Vedi Adesso questo qua Ha un interesse altissimo Quindi farà fare Tantissimi iscritti Bellissimo Adesso Dobbiamo pubblicare No scusaci Stiamo lavorando Ci sta importunando da due ore E continua a chiederci Chi è questa ragazza L'ho incontrata a un party Ci ho fatto amicizia Non ci devi fare amicizia Che poi Diana diventa gelosa Non ci provare Ma guarda Guarda Ho scoperto che a noi Non invitava più nessuno Perché Non avevamo amici E infatti adesso Abbiamo di nuovo gli eventi Quindi io me la so Siamo costretti ad avere amici Sì esatto Funziona proprio così Adesso ecco il video di Armani Mostra risultati Bravissimo Bravo 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 Tu sei sempre bravo E poi l'ha resettato pure i livelli Vedi Tessa l'ha picchiato talmente tanto Che ha smesso di imparare E poi l'ha piccato come fare i video Esatto Sarei dimenticato direttamente Povero Armani Ma adesso è di nuovo in buone mani Cioè guarda Abbiamo pubblicato il video E risulta ancora quell'altro Cioè sarà flipato per sempre Armani Io te lo dico Ma lo sai che i bug ormai sono Fanno parte di noi Esatto Fanno parte di noi Ci saranno sempre Dobbiamo accettarlo Allora adesso Ok Questo è un momento molto importante Abbiamo 200 video a pubblicare Che questa cosa è bellissima Dobbiamo uscire dal network Perché è il 29 Quindi Sì ormai abbiamo capito Che non siamo minimamente capaci Di rispettare Esatto Di rispettare tutte le cose Che ci chiedono Quindi facciamo come ci avevano consigliato Usciamo e rientriamo Non ce ne frega nulla Bisogna accettarlo Oh dato che è pieno di bug Almeno li sfruttiamo Che ti devo dire Che ti devo dire E dopo che dormiamo E dopo che dormiamo E mangiamo Registriamo con Steri e Niki Le prime impressioni Basta per oggi Vada a casa Armani Beh basta Evelin sta diventando Una palla al piede Te lo dico Sì come ogni persona Comunque abbiamo fatto amicizia Armani che fai? Se n'è andato Perché te ne stai andando? Non è abituato al duro lavoro Con testa non faceva nulla Vero? Esatto Veniva solo picchiato Veniva solo picchiato Facciamo fare ad Erwin Le prime impressioni Perché sinceramente Steri e Niki Non mi sembra che ne abbia voglia Ho paura che potrebbe fare Un brutto video Lo mettiamo a registrare Erwin ormai è esperto Quindi guarda Mi fido di lui Secondo me è capace Di fare qualsiasi tipo di video Esattamente E poi mettiamo a Zaria A registrare Il primo gameplay Di questo gioco Che essendo appena uscito Porta molto interesse Capito? Sei diventato un esperto ormai Sei benissimo Che video fare Vedo che l'hai notato Sono molto felice Sì 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 Sai come fare iscritti Sei proprio come diventare il numero uno Esatto Sei davvero bravo Perché io sono il numero uno Non mi sembra E tu sei il numero due No non mi sembra Non mi sembra che le cose Stiano in questo modo Ok Guarda che bellino L'ho notato adesso E non ignorarmi Sì sono tutte le cose Che abbiamo comprato Sì 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 Così almeno è contenta La smette di romperci le scatole Ci facciamo pure iscritti Esatto Dicevo la navicella spaziale Eh sì non l'avevi notata Lì no Bellissima 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 Sì ma siamo pieni di cose Guarda se va al piano di sopra Ormai abbiamo una reggia No no Stiamo andando a registrare Oggi funziona così Ogni cosa che tu proponi Non la facciamo Ok Ti piace È un gioco divertente Tu proponi Io non faccio Vuoi essere ucciso Vuoi essere picchiato Come Armani Dillo subito Perché guarda mi attrezzo E la finiamo qui Ma cosa vuoi fare Perché lo sai Che ogni disputa Va risolta con una rizza Quindi O ci picchiamo O ci picchiamo Te lo dico già Grazie mille Il video è fantastico I miei amici pensano Che tu sia figo E ora hai Meno 10.000 iscritti Perché Questo è il nuovo bug del gioco ragazzi Perché visto che ce ne erano pochi E aggiungiamone altre Cioè Fichissimo Meno 10.000 E vabbè È andata così Allora Forse Forse sei cos'è Magari figo Non provare a teorizzare Non fa ridere Magari figo Fa per te gli iscritti No Figo È ormai vecchio Non lo so Tu sei vecchia Ne abbiamo Smettila Ne abbiamo una Peggio dell'altra Ma pazienza Pazienza Ce la faremo lo stesso A raggiungere gli iscritti In un modo o nell'altro Ad esempio Pubblicando questa bellissima Prima impressione Vedi 71 Hai mai visto un video da 71 interesse No Sì prima Perché sei il numero 2 Non continuare Non continuare Perché stai scherzando col fuoco Te lo dico Ma che fuoco Che bellino Promuomi video no Guarda che bellino Ma tu stai notando le cose solo adesso Ce ne abbiamo della vita Il mappomondo non c'era dai Guarda la casetta che volevi tu Chi se l'è presa Eh Come sempre Cioè quella la volevo io nella mia stanza E se l'è presa Azaria Azaria è Alle mani rocci Doppia Chi ha fatto tutto quello che vede È brava È brava È più brava a rubare che a registrare Assolutamente Come hanno osato Superarci tre persone Questa è colpa di quella lì Che è già fatto a perdere Diecimila iscritti È colpa sua Io le spacco la faccia Appena la vedo Non faremo mai più collaborazioni con lei Oggi abbiamo voglia di spaccare la faccia Sì è vero Sì perché mi stanno facendo roviare Dobbiamo essere noi numeri uno Perché ci superano Perché Guarda No Che cosa Ah volevi fare l'unboxing È sbagliato Ta Poverino Vedi questo è perché non sei tu il numero uno Vedi Queste sono tutte capite Dovevi consolarmi E invece mi fai Mi dici queste cose Ti insulto Ovviamente Però Ho trovato un gioco del 27 marzo per PC Quindi adesso Allora Facciamo fare ad Erwin Perché ormai è un maestro Le prime impressioni Dopodiché Prendiamo Armani Azari Ester E Niki E facciamo fare a tutti e tre Un video su questo gioco E superiamo tutti quei maledetti Che ci hanno superato Ma non ti conviene anche promuovere i video Così facciamo iscritti molto più in fretta Proposta Prima impressione Forse è la prima volta che riusciamo a fare qualcosa del network Sì proviamoci Proviamoci Ci proviamo ragazzi Poi registra video con Azaria Comunque cosa mi Ah di promuovere i video No Tutte le cose che proponi tu Io non le faccio Continui Sì 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 Continui per te È la mia filosofia di vita Io ho uno scafale del genere Lo vorrei vedere in casa mia Guarda che bello Sarebbe bellissimo Sarebbe bellissimo Si ero sul computer Vabbè non importa Abbiamo due Playstation Perché le riconosco Questa quella a tre E questa quella a quattro Sì è vero Guarda quella che abbiamo Vedi Noi abbiamo almeno la Playstation 4 E il Nintendo Il Nintendo ce l'abbiamo anche noi Esatto Due cose Nintendo Le due PSP La vecchia e la nuova Questo è un bellissimo tablet Che abbiamo comprato Quindi probabilmente Serve a registrare qualche gioco Non lo so Ci ho pensato anche io Perché è finito nel reparto console Non è finito nel reparto decorazioni Ci ho pensato anche io Però ho comunque il dubbio Guarda quanto abbiamo Fatto stancare il povero Erwin Non si regge più in piedi Sta tornando a casa A riposarsi un po' Poverino Poverino Abbiamo distrutto Erwin scusa Stavo per dire Armani Il raggiungere la vetta È un compito difficile Guarda la World True 93 di interesse Bellissimo Mamma mia Bellissimo E siamo a 3 milioni e 3 ragazzi Nei ci avviciniamo Ci avviciniamo proprio tanto La stiamo per superare Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Finalmente sono diventato il numero 1 Il sogno di ogni youtuber È finalmente diventato realtà per me Sono il miglior youtuber del mondo E ora E ora ce ne andiamo nello spazio Non vedo l'ora Non l'ha detto lui Pensavo lo dicesse lui Per fare proprio le super effette No no l'ho detto io L'ho detto io Che adesso ce ne andiamo nello spazio Aspetta aspetta Il tuo ex compagno di stanza è tornato Ridacchia Il tuo primato in classifica sta per terminare Hai rubato il primo posto al mio amico Sterenicchi E ora ci trasferiamo su una casa nello spazio Credo che si sia mezzo abbagato il dialogo Ma non ho capito cosa vuole Sì hai capito bene una casa nello spazio Quando ci andremo ieri lì sarà numero 1 Per sempre Che vuol dire Ma è tessa questa Sì è tessa Non ho capito Ci sta obbligando ad andare nello spazio Cioè ci perseguisci anche nello spazio Non dirmi che non finisce neanche così Mentre ho sbagliato tasto per chiarire E volevo far vedere un attimino Stai panicando Stai entrando nel panico Perché ci ha fatto una minaccia bruttissima No Erwin è entrato nel panico Guardalo E così ragazzi da 40 minuti Lo abbiamo perso Purtroppo Secondo me sai che cosa è successo La pressione secondo me L'hai fatto lavorare troppo Per diventare i numeri 1 Ed è impazzito Povero Erwin Guardalo mi fa pena Oggi ci stiamo superando con i bug Oggi stiamo andando meglio di noi Uno a video non ci basta più Stiamo andando oltre Ed ecco la nuova casa Servono 100.000 dollari Ma ne abbiamo 267.000 Andiamo Andiamo assolutamente ragazzi Mi ha un po' preoccupato Con quello che ha detto Tessa Adesso staremo a vedere che succede L'hai visto come ci perseguita Non ci lascia mai in pace Anche alla fine Quando pensi Dai è finita la serie Arriva Ce ne andiamo nello spazio Così non la vediamo più Invece è cattivissima Ce l'ho fatta Ho raccolti i soldi Per trasferirmi nello spazio Prima di chiunque altro Non ho idea di cosa troverò là Ma sono ansioso di scoprirlo Lunga vita al numero uno Ma ti rendi conto Che diventi famoso su YouTube E te ne andiamo nello spazio Non capisco Perché sei il più famoso del mondo Devi diventare il più famoso dell'universo È giusto È giusto È giusto Alla prossima ci compriamo tutto L'intero universo Dai 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 Sono curiosissima Non ho idea di come sarà Non ho idea E sono troppo Oh mio dio Oh mio dio È simile a quella che avevamo nella terra Ok È molto simile Però guarda Guarda cosa tutto abbiamo attorno Anziché la piscina Abbiamo proprio una stazione Spaziale Spazio Ultima frontiera per gli youtubers E io sono il primo a metterci piede E qui finisce la mia storia Su come sono diventato Lo youtuber numero uno Ora che possiede una casa nello spazio Ho un nuovo obiettivo Organizzare l'intero team E rimanere in testa Ho raggiunto tutti i miei precedenti obiettivi Ma ho ancora molto lavoro a fare Ci stai dicendo Ehi il gioco è finito Però se sei un po' scemo E ti freghiamo Continui a giocare inutilmente In poche parole sì In poche parole ragione Ma facciamo finta di nulla Guarda Guardati un pochettino intorno L'unica differenza è che Al posto di una piscina Abbiamo questa cosa Che cos'è Cos'è L'intera stazione spaziale Guardati attorno C'è proprio l'universo Si vede che siamo su una stazione Buttati in mezzo all'universo Guarda Come siamo Enorme È enorme Sono senza parole La casa pure è rimasta uguale Notato Comunque è molto molto simile Mi sembra un po' più ordinata Non c'è più la pizza buttata nel tavolo Però È rimasta simile Oh mio dio Vediamo il pieno di sopra Giusto per capire Non so come respirano Cioè qua proprio Alti livelli Di cose strane Non importa L'importante è che siamo il numero uno E guarda C'è una nuova stanza Per il nuovo collaboratore Perché abbiamo uno spazio ancora vuoto Esattamente E si è giunto a questa stanza E credo che la lasceremo vuota Perché io non ho capito il messaggio di testa A sto punto Non l'ho capito neanch'io Lo sai Guarda Quella è un'altra stanza ancora Sì Per le decorazioni sicuramente Guarda un attimino La classifica Siamo ancora primi Io non ho capito a chi si stava riferendo Secondo me No Di nuovo prima lei Guarda Però siamo a pari punti Siamo a pari punti Ma guarda le views Ho capito Ho capito Stavo parlando appunto di lei Ok Perché mi ero dimenticata Del nome di lei Ma penso che si sia Alleata con Iareli Per evitare che noi Rimaniamo al Al primo posto Ok Hai capito Sì 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 Ha cercato diciamo Un alleato forte Per contrastarci Allora è notato che poi ha detto Il tuo collaboratore è tornato Quindi si è resa conto Che Armani È tornato da noi Allora lei si è alleata Con Iareli Per farla tornare in testa E quindi evitare Che noi fossimo i primi Ma l'importante è che siamo Nello spazio Ce l'abbiamo fatta Sinceramente Tessa Arrangiati E prima di concludere il video Andiamo a salutare Gli altri nostri Sei eroi del giorno Che per oggi sono Veronica Viviana 29 Kebabo Marika Joe E Francesca Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi il video Ficcia così Se vi piace Lasciateci un bel like Se è la prima volta Che vedete un nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao